E' finito? Qual è? Che cosa ricordiamo? La pace? Gli stupri? Gli attentati? Le missioni? Cosa? Da quando sono nati, il racconto dei suoi vestiti non sapete. Per finirci le coscienze abbiamo inventato il mio segno, generato messi, costruito monumenti, depositato con lui. Ha significato vero di la pace, con la benissima. Che siamo, uomini, soldati, vesti e serpenti. Ancora oggi, strisciano persone, ai piedi del padrone. Una società senza memoria non può essere che una società assassina. Un po' di meno. Abbiamo stesso un tappeto, adosso. Come io non lo faccio. Verrà e mostrano la nostra 커� wonesce, ma se ci non ci si è. in quel scena sacerdista e ci siamo attagiati e adeguati senza alcuna resistenza al sistema canonistico. Quale storia volete vi dico? O la storia di chi combatte una guerra senza fine contro il lavoro nero, il precariato e la comandazione e il nazismo? La storia di chi muore sotto le bombe rinviate di pace? Quella di chi lascia le proprietà di cercando un po' di vita? Tra le stagioni a due profondi assassini con pezzi di fortuna pagati a peso d'olio per sbarcare nelle nostre città ed essere assassinati a Castelbozzini o schiarizzati, sfruttati e trattati da bestie arrosate? Che cosa vogliamo raccontare a questi figli? Che cosa? Che siamo al popolo senza luce? Se continuiamo a camminare su quel maledetto tappeto rosso, tutto quello che avevamo immaginato di cambiare e rimane incollato sotto i nostri tappi e non troveremo più erba o sassi o della nostra estacca e riconoscendo a queste persone. E non amare, non amare, non amare, non amare, non amare. ... ... ... ... E' per questo che io, in questa sera, ho sentito tutte le persone che vogliono accendere, di più di più di più di più di più. E' un'altra salvezza questa cosa. E' inizio a votare, o canta, o notare, soffremamente, per non accadere senza nessuno, e senza nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.